Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale Allora, oggi siamo qua insieme perché andiamo a vedere come sbloccare lo spray di Wolverine Allora, per sbloccare questo spray non dovrete fare altro che fare la sfida indaga sugli artigli misteriosi Allora, direi che possiamo anche spostare alla prima posizione La prima posizione si trova a Foresta Frignante, più precisamente sopra a questo ponte Stare molto attenti alle colonne, perché appunto, come vedete, in queste colonne ci saranno i primi artigli Che andranno a sbloccare la prima parte di questa sfida Direi che possiamo anche spostare alla seconda posizione Per la seconda posizione non dovrete fare altro che recarvi in questa casetta accanto ai camper Allora, non dovrete fare altro che spaccare questo muro Perché dall'altro altro troverete altri due bagni con altri artigli E come vedete, infatti, questi qua verranno a sbloccare la seconda parte di questa sfida Direi che possiamo anche spostare alla terza e ultima posizione Allora, per trovare questi ultimi artigli non dovrete fare altro che recarvi qua accanto ai camper E dovrete precisamente andare al camper verde E come vedete, al lato di questo camper troverete i terzi e gli ultimi artigli Che vedranno a sbloccare la sfida completa per ottenere lo spray Il video oggi termina qua Spero vi sia piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace e cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video In modo da rimanere sempre aggiornati su qualsiasi news nel mondo di Fortnite In modo da rimanere sempre aggiornati su qualsiasi news